Un macellaio in città va a caccia di povere donne. La polizia di Gotham non fa che girarsi i pollici. Il suo abito da sera è già pronto, signore. Credevo avessi capito a cosa mi riferivo, Alfred. Voglio liberare Gotham dallo squartatore. È un abile cacciatore. E ha appena cominciato. E ora mi sta studiando. Lei è un soggetto affascinante. Non sono solo una bella ragazza. Bruce Wayne, lei è in arresto. Non può credere che sia davvero io lo squartatore. Prego, la suite deluxe. Devo andarmene da qui. Gotham ha bisogno di Batman. Ogni minuto che passi qui dentro, mette in pericolo le donne. Andate via dalla strada. Subito! Etate via dal strada. Grazie a tutti.